Ciao Vets, benvenuti in un altro episodio di FTB, Feed the Beast Dai Worldpack, no, Dai Worldpack E come al solito Non c'è Final Vabbè, ormai non giocherà più Mi sa che è diventato tipo canale Final fa Skyrim, io faccio Minecraft E eroe fa Dark Seeders Però, vabbè, dai Prima o poi faremo qualcosa in multiplayer Quando abbiamo voglia Quando finiremo queste serie, mi sa Ehm... Glitch del cavolo Oggi continueremo i nostri macchinari della Forestry Cosa dobbiamo fare oggi? La farm di canne da zucchero Yeee Unico problema è che per fare la farm di canne da zucchero Ci volgono questi E me ne servono anche cinque Quindi, i soliti tubini Mi sa che avete già capito cosa voglio fare Beh, ve l'ho anche detto Ehm... Dobbiamo fare i soliti maledettissimi Tubini del cacchio I tubi, questi qui Ehm... Poi mi serve un... Uno di questi Prendiamo un po' di redstone Magari metà Zan zan Sempre con sinistro Vi ricordo questo Ah, mi serve acqua Ok Quindi andiamo a prendere un po' di acqua Non ho secchi Sì, due Intanto abbiamo l'acqua infinita qua sotto Ok Andiamo a riempire Il nostro carpenter Dobbiamo farne uno Mi sembra Perché dobbiamo fare il logger Di nuovo Logger Come si fa? Ok, strudimachine Ok, perfetto Niente di... Ma anch'io son P Vabbè Ora non sai più farli Non mi vedo mai che ce li ho già Qui dobbiamo lasciarne uno Ne abbiamo due Quindi Se noi facciamo altri due farm Gli finiamo tutti E ne guardiamo anche Quattro pezzi di vetro Uno, due, tre, quattro E Ehm... La cosa La strudimachine La strudel Quindi Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Bronze ingot Che brutto sto bronzo Mi piaceva di più prima Che era rosso acceso Vabbè Rosso, arancione Acceso Quindi strudimachine Questo Perché l'ho preso? Questo E questo Il nostro logger Poi ci servono Altre quattro vetri E quattro sugar can Perfetto E altri quattro vetri Uno in più Come al solito Contrario Zan 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 Logger E le sugar can Che è qua Eccolo qua Il sugar can Harvester Questo qua Non ha bisogno di albore Tum O qualsiasi altra cosa Ma basta Solo questo Per semplice motivo Che le canne da zucchero Si fanno da sole Ehm Cosa combina questo? Fa Un coso Enorme Diciamo È un 21x21x6 21x6 Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Lo mettiamo all'undici All'undicesimo Lui non taglia niente Quindi dovete tagliare voi le cose Tanto dovete posizionare voi Le canne da zucchero Quindi non dovete avere problemi Via 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 Qua dovremmo riempire un po' di roba Quindi riempio E torneremo subito Ok Eccoci qua dentro al nostro cerchione Cerchione È un retta Doveva essere un quadrato Però vabbè Nel cerchione 21x21x6 Non abbiamo problema Perché non vedo altro 21x21 sono 10 Più uno che è l'harvester Più 10 Che sono l'altra parte Quindi è un bel cerchione Possiamo dire Io Ho stimato Che come metterò Le canne da zucchero Faranno una produzione Di 3 stack E 48 A volta Stimato Diciamo Quando sono alte 3 Questo quale taglia E taglia l'ultimo pezzo Quindi Dobbiamo usare 3 stack E 48 Di canne da zucchero Per riempire il pezzo Quindi andiamo a dormire Prima che Spawnino mostri Mi servono i conduit I conduit Sempre Per fare arrivare La corrente Ma di più Mi serve l'acqua Bene Andato facciamo arrivare La corrente Così Non abbiamo problemi Quindi andiamo qui Facciamo un buco Magari qua Facciamo un buco Allora Specco meno filo Da qua O qua Se faccio Tadadà Specco filo Buoniamo avanti Carbonio Lasciamola Dove arrivare La Bester Ci vorrà un po' Ma che botta di cura Ho legato proprio in pieno Bello Lungo il tragitto Si ho capito che c'è l'acqua Tanto Devo solo mettere questo Poi chiudo tutto Ok Zack Zack E zack E anche Ho risparmiato Qua la Bester Così riceve energia Tranquillamente E Dobbiamo crearci Il cerchio Con le cane a zucchero Quindi andiamo a prendere Un po' di acqua Magari Dobbiamo fare due cerchi Circa Di acqua Allora Ne saltiamo uno Da qua E facciamo un cerchio La Acqua è finita Bucco Acqua è finita Bucco Ok sto prima a farlo con questo Quindi se noi facciamo zack C'è il tubo Siamo Tampi E Tampi E C'è l'acqua. L'ho chiuso prima. Vabbè che non serveva a chiuserlo ancora, ma vabbè. Ok. Da-dan 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 da-dan. Uno. Ok. Andiamo avanti. Tagliamo già tutto. Ancora uno. E da-da-da-da-da-da-dan. E qua. Quindi ne abbiamo tutto di acqua. E questo qua si fa per questo cerchio. Poi all'interno bisogna mettere un altro cerchio. Soltandone due. Uno, due. Quindi qua. Esatto. Però gli angoli dobbiamo mettere l'acqua qua dentro. Quindi qua ci verrà una sugar cane. Il cerchio si farà così. Quindi. Zack. 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 E il cerchio è così. Vaffanculo. Vaffanculo. Ok. No. No, ho sbagliato. Qua non ci va. Vieni anche qua. Ok, sì. Chiudiamo. Vaffanculo. Zack. Zack. Questo qua è un altro impianto inedito perché nella wiki dice anche che è obsoleto. Quindi. Un motivo in più. E nessuno l'ha mai fatto questo qua delle carne da zucchero. Quindi. È un buon impianto diciamo. E l'ho fatto tutto io. Via. Acqua. Acqua. Quindi riempirò il tondo qui di acqua. Ci vedremo più tardi. Ok. Ho riempito tutto di acqua. Come potete vedere. Qua l'energia ce l'ha. E ora ci divertiremo a mettere le nostre pannocchie. Pannocchie. Le nostre queste. Tanto possiamo cavarle da qua. Per me non ci si vediamo più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ricordate la prima volta che avete giocato a Minecraft? Così, commentate. Io mi ricordo che ero con Final e mi fa vuoi giocare a Minecraft? Sì, dai proviamo. Io prima dicevo no, fa schifo, dicono tutti che è una cavolata, lasciamo stare, non voglio giocare. Poi lo faccio. E dai proviamo visto che non ho niente da fare. E poi me ne sono innamorato, possiamo dire. E' uno dei miei giochi preferiti, possiamo anche dirlo. Ehm... Sì, è uno dei miei giochi preferiti, posso dirlo. Mi sono troppo sbagliata, vabbè. Ed ero... abbiamo creato sto mondo, col server, che ho fatto io. Subito io ho creato server, anche se non sapevo che gioco ero, ho creato subito io il server. No, perché Final non andava. E... Ci siamo trovati in questo deserto, vicino alla giungla, e ci siamo fatti l'unica casa nella giungla che potevamo fare. E mi ricordo che lui mi insegnava e io non ci capivo niente. A un certo punto sono andato tipo sulla wiki a vedere come fare le torce di redstone, e ho riempito la casa di torce di redstone. E mi fa, ma perché hai buttato di tutta la redstone? E li faccio, eh che cazzo ne so. Non so neanche giocare. Ho visto il primo crafting facile che c'era e quindi l'ho fatto. Poi è cominciata... ho imparato un po' a giocare, ho detto sì, andiamo avanti. E lui mi fa, vuoi giocare a Tech Hit? E da quella è partita la passione per la mod. Difatti i primi video di questo canale sono fatti da quando mi fa, vogliamo fare Tech Hit? Forse l'ho già detto. E quindi... Facciamo Tech Hit e lui mi fa, vabbè facciamo anche video così ci divertiamo a fare video su YouTube. Ok, vi faccio ok. Proviamo questa esperienza. Ed è ancora bella. Però non commentate, quindi non mi piace. Scherzo. Commentate ogni tanti video, ci aiutate un po'. Cosa volete perché facciamo? Un impianto inedito? Volete che scopriamo come si usa questo impianto? Dice, dice, te glielo. Volete che facciamo qualche video? Ah, qua non si può mettere. Beh, quindi sapendo che là non si può mettere, facciamo una cosa del genere così prendiamo anche... Ci facciamo un buco e ci mettiamo l'acqua così possiamo metterla anche qua. Se volete farci fare qualcosa, qualche gioco, vi ricordo, c'è anche scritto sul canale, chiedetecelo, volete giocare a GTA 5, chiedetecelo. Non abbiamo problemi, vi diremo noi se abbiamo problemi, non so, a trovare gioco o qualcosa del genere. Non riusciamo a giocare, non ci piace, certe cose del genere. Non rifiutiamo mai un'offerta. Se volete farci fare qualcos'altro, ok. Intanto abbiamo ci iscritti. Quindi vi ricordo, se volete farci fare qualcosa, qualche gioco online, multiplayer, volete che facciamo qualche gioco multiplayer tutti insieme, eccetera. Voi ci dite e noi facciamo tranquillamente. Come funziona l'harvester? Funziona un po' come logger e il combine. Bisogna che abbia una chest di fianco perché depositi tutti gli oggetti. Quindi andiamo a farci una ender chest che ci porti tutti a casa per ora. Quindi dobbiamo farci l'ender chest gialla, rosso, gialla. Siamo questi. Una chest. Una perla dell'end. Due ossidiane. Un paio di oggettini. Due perla dell'end. No, una perla dell'end. Una, due, tre, quattro. Perfetto. E una lana. Una lana che può essere bianca. Magari usiamo... No. Più avanti useremo quell'arancione. Così la buttiamo via perché non mi serve. Ok. Due di queste. Poi andiamo nella crafting con questa. Ci facciamo. La ender pearl. Eccola qua. La nostra ender chest. Andiamo a prendere i colori. Che sono di qua. Giallo giallo. Rosso. Patata. La patata. Chissà se in Minecraft implementeranno le banane. C'è già la patata? Sto scherzando. Sto scherzando. Magari. Forse qualche frutto in più. Eccetto la mela. L'arancia. Che figata l'arancia. Ci mettiamo la nostra ender chest. Pensata in parte. Giallo. Rosso. Giallo. Così manda tutto. È la nostra. Smistamento. Questo qua non è lo smistamento. Ok. E cosa fa questo? L'harvester. Quando questi cresceranno. Al terzo stadio. Quindi. Uno. E due. Taglierà. Entrerà tutto qua dentro. E lo manderà a casa. Per ora. Sono ancora. Allo stadio. Uno. A maggior parte. Quindi. Ci vorrà un po' prima che crescano. Lo so. Crescono di più. Sulla sabbia. Però. Cioè. Non volevo usare sabbia. Non avevo voglia di. Di. Di cambiare. La terra in sabbia. Quindi. Ho aspettato. Che figata. Vista dall'alto. Straffica. Quindi. Anche per oggi abbiamo fatto. La. Farm. Di cane a zucchero. E. Ci siamo liberati. Della. Rigona. Immensa. che avevamo qua. Quindi. Buttiamo via un po' di roba. Questo. 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 La terra. La terra. Perché c'è uno zombie qua? Mi sa le mie torce. Vai. Uccidi. Enderman. Due. Enderman. Mi sa che. Prima stavo giocando. In modalità easy. Non si sa perché. 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 Perché stranamente. Adesso ci sono più mostri. Che di prima. Posso dirlo. Assolutamente. Trovo. Meglio. Forse. Così. Non mi dite. Eh. Giocchi easy. Sei sfigato. Giochi easy. Sto giocando in medio. Adesso. Mi dite. Eh. Sei sfigato. Zitti. Eh. FTB. Non è Minecraft normale. Se giocassi a Minecraft normale. Giocherei anche in hard. Tranquilli. Questo qua. FTB. Quindi. Non vale la pena. Giocare in hard. Cioè, morirei tantissime volte Io non dovrei morire tantissime volte Io dovrei fare impianti E insegnarvi qualcosa Sì Eeeh Qua dentro mettiamo sta fottutissimo La prossima volta non so cosa fare Oggi abbiamo fatto questi Oggi 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 abbiamo fatto Questa bellissima farm Unico problema è che Trocca sprecare 5 Bicchietti per Una merda di farm Via dalla mia farm Dico solo questo Che cazzo è quella palla? Ah ok, è un pezzo di sasso Vaffanculo Appena cresceranno tutti Questo qua inizierà automaticamente a tagliarli E abbiamo sugarcane infinite Eeeh Tanto i nostri motori Andranno all'infinito Quindi non abbiamo problemi E anche questo andrà all'infinito Sarebbe questi qua Cambiarli tutti in oro Quindi cambiamoli tutti in oro Questo è in prima Bene, ancora 10 Possiamo Eeeh Madonna Abbiamo tantissimi Quindi via Facciamo così Dove sono i miei tubidoro? Qui Golden Waterproof Vai Waterproof Waterproof Ok Waterproof Pipe Togliamo questi Tanto la lava all'interno Mi sembra che torni indietro No La perdiamo Non ricordo cosa succede La lava dentro Quello che ci importa Quello che ci importa a noi E' che non Che non ci venga addosso Spero solo che 10 bastino Giusti Giusti Meglio la lava Quindi non abbiamo problemi E' velocissimo Sto impianto Vi dico solo questo Basta un minimo secondo Va di là Fatto Preso Va di là ancora Preso E' E' una cosa Bellissima E' bello E' anche che Ci permette di Senza problemi E poi di là La lava è infinita Mi sembra Quindi non abbiamo problemi Ehm Quindi Per questo episodio E' tutto Da DJ E' tutto Questi ultimi Forse 5 minuti Vi ho rotto il cazzo Però Sono dettagli E allora Da questo episodio E' tutto Ripeto Da questo episodio E' tutto Ripeto Da questo Ripeto Ne guardate le nostre tartole Invece Ma sono curioso Di vedere Quanto sono Arrivate Uh Posso già fare Una query Pensate Quindi Da questo episodio E' tutto Da DJ E' tutto Alla prossima Tutto 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 Tutto